Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, ringrazio Daniele per la collaborazione, per aver propiziato l'incontro di questa sera, saluto gli amici parlamentari che sono presenti e i colleghi giornalisti che ci hanno voluto onorare della loro presenza. Io mi limiterò a fare qualche riflessione perché i temi che Corrado ha posto sul tappeto sono molteplici e quindi credo che questa conversazione di questa sera rischierebbe di prolungarsi all'infinito. Mi soffermerei sugli aspetti della comunicazione che sono quelli maggiormente attinenti alla mia sfera di interesse, per cui partendo anche un po' dal gioco linguistico che sottende anche un po' l'intitolazione del volume la nostra realtà quotidiana è stata anche un po' modificata, certamente profondamente modificata in quelle che erano un po' le accezioni classiche della linguistica positivista, per cui positivo è tutto ciò che afferisce al bello, al buono e al bene, e negativo invece interpreta sostanzialmente gli effetti contrari. La pandemia ci ha posto di fronte invece a una contraddizione probabilmente in termini, anche se chiaramente molti medici, molti studiosi ritengono che questa chiaramente non sia una scoperta, perché è chiaro che nell'accezione medico-scientifica il referto di negatività da sempre accerta l'assenza di malattia, l'assenza di un determinato dato. Quello che è interessante è come il concetto di negativo si è invece diventato nella accezione quotidiana una sorta di lasciapassare, come dire, una specie di stigma per cui negativo è sinonimo di sano. E quindi questo ha cambiato anche un po' un modo di parlare, parliamo con i nostri amici, parliamo con i nostri colleghi, come sta? No, sono negativo, ho fatto il tampone, tutto quello che ne deriva. Ecco, tutto questo ha creato evidentemente anche un po' un cortocircuito, un cortocircuito che si è purtroppo manifestato anche attraverso una babbele comunicativa che la pandemia ha in qualche modo accentuato, perché una comunicazione che è passata essenzialmente attraverso l'uso dei social media, in questi due anni, se non ha drogato il sistema, certamente ne ha fornito una dimensione distorsiva rispetto a quelli che sono i parametri della realtà. E effettivamente poi se andiamo a guardare i dati delle agenzie che certificano anche un po' l'andamento della comunicazione come riflesso della vita di tutti i giorni, ci accorgiamo che questi dati sono esemplificativi. Per esempio il census, non più di qualche mese fa, certificava che per oltre 5,9%, per il 5,9% del campione in Italia, quindi parliamo di poco più di 3 milioni di persone, il Covid non sarebbe addirittura mai esistito. E se noi trasferiamo questo dato rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni, la guerra russo-ucraina, quanti sono gli elementi che i social ci fanno rimbalzare secondo i quali quello che i telegiornali mostrano, quello che la stampa ufficiale mostra, rappresenta semplicemente come dire un aspetto magari inventato di quella che è la drammatica realtà di quei luoghi. E tutto questo chiaramente in assenza di testimonianze dirette diventa una, come dire, narrazione diciamo da metaverso, volendola in qualche modo amplificare rispetto a una realtà virtuale della quale noi non abbiamo il controllo. Secondo aspetto, chi certifica la veridicità di quello che i media raccontano? Esiste un ente certificatore? No. Esiste la buona fede di chi racconta? Esiste l'autorevolezza magari dell'organo informativo attraverso il quale ci si informa, ma anche su questo va aperta una discussione, perché è chiaro che se la maggior parte dei fruitori, dei social, parliamo dei giovani, acquisisce le proprie informazioni non dai portali, ma da quello che Google gli suggerisce o da quello che sostanzialmente il loro menu quotidiano attraverso l'algoritmo gli porta, capite bene che parliamo, come dire, di una realtà non è anche più virtuale, parliamo di una realtà nella quale tutto è opinabile. È opinabile il Covid, sono opinabili i vaccini, è opinabile la base scientifica sulla quale i vaccini sono stati costruiti, ed è opinabile anche Mariupol a quel punto. Questo è il tema. Un'ultima riflessione, non entro nell'aspetto diciamo del dualismo cultura-politica, perché immagino che l'amico Aurelio dopo si soffermerà su questo tema. Parliamo delle imprese, parliamo del tessuto produttivo. Come tutto questo fenomeno si è riverberato, anche nel modo di raccontare un qualsiasi prodotto. Una settimana fa è uscita un'interessante analisi Nielsen, forse qualcuno l'avrà letta. L'analisi di Nielsen dice sostanzialmente che le imprese che dal 2020 alla fine del 2021, quindi parliamo di un anno e mezzo, da marzo 2020 a dicembre 2021, a causa della pandemia hanno rinunciato rinunciato alla comunicazione, hanno perso in brand, hanno perso in valore e hanno perso in credibilità. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che rinunciare a raccontare anche il proprio punto di vista, e non entro neanche nel merito poi sostanzialmente della responsabilità sociale dell'impresa, di cui oggi vuol dire si parla spesso, non entro neanche nel merito delle norme di accountability che presiedono ormai le regole di mercato, senza le quali non si progredisce. Questo però vuol dire che la gestione della comunicazione di crisi è fondamentale. È fondamentale nel rispetto delle istituzioni, nel rispetto dei consumatori, nel rispetto del mercato. E quindi tornando anche un po' alla aporia di fondo che costituisce il titolo di questo volumetto, mi viene un po' anche da ricordare quello che alcuni studiosi mi hanno scritto, qualcuno l'ha anche detto nel corso di alcune precedenti presentazioni che abbiamo fatto, per cui sostanzialmente questa fase di negatività assoluta è un tema che storicamente si ripropone, si ripropone nella filosofia, si ripropone nell'arte, si ripropone nella letteratura. Per cui molto spesso viene anche in mente ciò che scrive Leopardi come incipit della ginestra, citando una bellissima frase del Vangelo di San Giovanni, parliamo del terzo libro, e gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. Ecco, probabilmente vivere nelle tenebre rappresenta forse l'anelito ultimo per invedere la luce in fondo al tunnel. Grazie.